Una settimana di screening e consulenze per il benessere dei reni. Il percorso di educazione alla salute promosso dalle farmacie comunali di Arezzo metterà a disposizione dei cittadini una settimana dedicata alla prevenzione delle malattie renali fino a sabato 14 ottobre. Una forma importante di prevenzione rappresentata dalla misurazione gratuita della pressione per tenere sotto controllo i valori in caso di familiarità con patologie renali e cardiologiche, diabete, ipertensione e obesità. La pressione alta infatti può essere conseguenza e causa di nefropatie. Un altro test utile è rappresentato dagli stick per i parametri urinari di cui sarà dotato lo sportello infermieristico della farmacia Campo di Marte ad Arezzo. In pochi minuti e con affidabilità permetterà di ottenere una prima valutazione dello stato di salute dei reni attraverso parametri quali la presenza di proteine o zuccheri. La settimana prevenzione delle malattie renali dunque rappresenterà un'occasione per approfondire queste tematiche facendo affidamento sulle esperienze e le conoscenze del personale delle farmacie comunali per consigli e informazioni a tutti gli utenti.